Aus è troppo distratto per notare che sei distratto, ma noi no. Embolo e angiografia, sono concentrato. Ryan ha cancellato le facce di metà della sua classe, non mi sembra un problema? Non è un nostro problema. Perché deve essere un problema? Io alle superiori con il pensiero ho giustiziato il mio insegnante di geometria in cinque modi. Io non volevo uccidere nessuno, volevo solo torturarli lentamente nella mia cantina, magari con l'acido. Voi pensate mai a cosa potreste fare ad Aus? Forse non è un problema. O forse sì. Qualcuno ha sparato a Aus.